Il treno regionale 10-7-5-0 di Trenord proveniente da Bergamo è diretto a Milano Porta Garibaldi delle ore 5.03 e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 50-30 di Trenord proveniente da Bergamo è diretto all'Ecco delle ore 6.17 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10-7-5-1 di Trenord proveniente da Milano Porta Garibaldi è diretto a Bergamo delle ore 6.31 e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 50-31 di Trenord proveniente da L'Ecco è diretto a Bergamo delle ore 7.08 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17-11 di Trenord proveniente da L'Ecco è diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 8.16 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17-11 di Trenitalia proveniente da L'Ecco è diretto a Verona Porta Nuova delle ore 8.16 e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10-7-9-3 di Trenord proveniente da Carnate e Usmate è diretto a Bergamo delle ore 20.56 e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17-12 di Trenitalia proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a L'Ecco delle ore 21.23 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17-12 di Trenitalia proveniente da Verona Porta Nuova è diretto a L'Ecco delle ore 21.23 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.